Dunque, come avevo preannunciato, l'argomento è quello della storiografia del IV secolo a.C., quindi tutto il periodo che va dalla conoscenza della storiografia con Senofonte, quindi quella che affronta fondamentalmente l'avvento del regno macedone, le conquiste di Alessandro Magno e poi i diadochi. E' un periodo abbastanza articolato, articolato con varie novità. Intanto una novità è data dalla presenza di nuovi popoli interessanti come quelli della zona medio orientale, di nuove terre. Pensiamo alla vastità della conquista di Alessandro Magno e dei nuovi luoghi che vengono conosciuti. Per cui si recupera la lezione di Erodoto per quanto riguarda gli interessi geografici e etnografici. In più si assiste allo sviluppo di nuove modalità espressive, perché la storiografia sperimenta anche delle forme diverse, alcune che recuperano il gusto per l'aneddoto, per la narrazione anche romanzata, oppure per un tipo di narrazione più coinvolgente e quindi di tipo drammatico che si richiama al principio della mimesis aristotelico, ma che mette in campo poi una serie di strategie drammatiche che verranno criticate da Polibio e non solo. Questa idea di massima noi la desumiamo prevalentemente da poche fonti e spesso alcuni giudizi emergono da quello che hanno detto altri. Lo stesso Polibio per esempio, ma anche Plutarco, che hanno espresso giudizi su storiografi precedenti. Perché in realtà le fonti rimaste sono poche, anche per ricostruire quegli anni che evidentemente furono considerati di minore interesse rispetto all'epoca precedente. Questa potrebbe essere anche una spiegazione circa il fatto che è stato tramandato poco materiale. Per cui le fonti che si hanno sono fonti epigrafiche come il Marmor Parium, poi abbiamo i primi cinque libri delle storie di Polibio, e una serie di brani, ma sono proprio tipo brani antologici per intenderci, in una raccolta che fece curare un imperatore nel periodo bizantino, che era Costantino VII Porfiro Genito. E poi degli altri brani, degli storiografi di questa epoca, sono recuperabili all'interno di opere di storiografi dell'età imperiale, sia all'interno di opere storiografiche, a più ampio respiro, sia all'interno di monografie. Quindi si trovano all'interno dell'opera di Plutarco, di Appiano e di Ariano. Allora, quali sono le linee così individuabili, le tendenze storiografiche individuabili? Abbiamo una tendenza che è quella alla storiografia detta drammatica, o tragica, o mimetica. Sono tre denominazioni differenti, che però caratterizzano un'unica tipologia di storiografia. I rappresentanti furono Duride e Filarco. Il principio di poetica a cui si ispirano la visione che hanno è desunta da Aristotele, perché volevano inserire nel racconto dei fatti una serie di componenti che potessero suscitare dei sentimenti, quindi dare un'idea del sentimento provato da chi aveva vissuto quei fatti. E per farlo ricorrevano a descrizioni di sentimenti, a scene patetiche. Questa è sempre l'idea che ci facciamo anche molto dalla critica di altri. E comunque, rispetto a questo tipo di storiografia, oltre alle critiche, ci fu anche una sorta di presa di distanza, per cui non furono considerati poi dagli storiografi di età imperiale fonti, come dire, attendibili. Invece, per contrapposizione, vennero considerati storiografi attendibili il gruppo degli storiografi della cosiddetta storiografia scientifica. La storiografia scientifica si sviluppò sulla linea della storiografia tucididea. E in questo filone si collocherebbe poi l'opera di Polibio, che in ogni caso superò chiaramente le prove degli storiografi precedenti. Di storiografia attendibile si parla anche per quanto riguarda Timeo di Tauro Menio. Per quanto Timeo sia stato oggetto di critiche da parte di Polibio, quindi comunque diciamo Polibio lo attaccò per vari aspetti, non in ultimo il metodo applicato. in ogni caso Timeo fu uno storiografo che ebbe un ampio seguito, che ebbe anche dei meriti, lo vedremo successivamente, e che soprattutto riscosse ampio successo, un successo paragonabile, diciamo una diffusione paragonabile a quella di Erodoto. e quindi abbiamo una un'altra diciamo tendenza, quella degli storici di Alessandro, all'interno dei quali è possibile distinguere due rami. Quella del resoconto di ufficiali al seguito di Alessandro e quindi un resoconto per così dire più attendibile e poi invece la tendenza, il filone cosiddetto romanzesco in cui confluirono anche gli espedienti della retorica. Spesso diciamo all'interno di questa tendenza romanzesca confluì l'interesse più che per la storiografia per la retorica quindi per l'esercizio di bello stile. passiamo ad esaminare intanto la prima tendenza quella della storiografia drammatica la storiografia drammatica nasce in opposizione ad un'altra scuola storiografica precedente che è quella isocratea detta così perché Eforo e Teopompo furono allievi di isocrate e questa scuola si caratterizzava per una prosa asciutta attinente attinente ai fatti che bandiva l'uso di particolari procedimenti retorici volti ad abbellire la narrazione e che per questo viene diciamo rifiutata dagli esponenti della storiografia drammatica Durida in particolare rimane un piccolo estratto di Durida in cui lui appunto dice che è una storiografia non adatta a rappresentare la realtà e proprio perché diciamo la finalità l'obiettivo di Durida è rappresentare la realtà secondo il principio di Mimesis aristotelico la storiografia drammatica mette in atto tutti gli espedienti volti appunto a drammatizzare e a spettacolarizzare e queste le fonti relative a questi procedimenti vengono appunto da Polibio da Plutarco e da quelle poche dichiarazioni diciamo esplicite che sono rimaste di Duride andiamo invece alla cosiddetta storiografia attendibile allora il primo filone è il filone scientifico che come vi avevo detto poc'anzi sviluppa sviluppa la linea della storiografia di Tucilide e che quindi rifiuta la spettacolarizzazione perché non non funzionale a raccontare i fatti storici e l'assenza di spettacolarizzazione la fece diciamo fece considerare questo tipo di storiografia più attendibile fra le personalità si emerge quello di Ieronimo di Cardia che la cui attendibilità è comprovata per il fatto che venne utilizzato come fonte per ricostruire l'epoca storica che va dalla morte di Alessandro alla morte di Pirlo del 272 avanti Cristo ed è il filone appunto all'interno del quale si può ascrivere anche Polibio lo storiografo maggiore dell'epoca di cui appunto ci rimane anche molto di più è però considerato uno storiografo attendibile quindi diciamo che persegue il fine della narrazione storica anche di Meoditao Romagno lui scrisse le storie siciliane e l'ambito diciamo di narrazione riguarda l'area geografica della Magna Grecia della Sicilia e di Roma e questa quest'area viene raccontata dal punto di vista storico a partire dagli origini quindi dalla fondazione di città fino alla prima guerra punica Timeo scrisse le sue storie ad Atene e quindi questa sarà una delle accuse di Polibio cioè il fatto di essere stato uno storico da biblioteca fondamentalmente avere studiato ma non avere quella conoscenza sul campo che secondo Polibio è fondamentale perché la storiografia possa diventare utile e come la definisce lui pragmatica l'opera però di Timeo ebbe una ampia diffusione e sia la diffusione sia l'interesse per la geografia e per l'etnografia portarono diciamo ad assimilare Timeo a Erodoto e al di là diciamo delle critiche che Polibio gli rivolse c'è sicuramente un merito anzi ce ne sono due meriti che vanno riconosciuti a Timeo e sono l'aver elaborato una cronologia universale perché lui procedette comparando i diversi sistemi di datazione e arrivando ad una datazione unica a questo hanno ricondotto anche per esempio il gusto dell'esincronia cioè mettere in relazione una data con un'altra la coincidenza di eventi però questo è diciamo un interesse uno sviluppo altro diverso l'interesse e lo studio la fatica di Timeo è legata proprio all'elaborazione di questa cronologia universale e poi è il primo diciamo a aver acceso i riflettori su Roma ad essersi accorto della grandezza dell'importanza di Roma appunto quindi andiamo agli storiografi di Alessandro allora all'interno di di questo gruppo troviamo intanto Tolomeo Lago Tolomeo Lago che fu sia generale di Alessandro ma anche il fondatore della dinastia dei Tolomei d'Egitto e ebbe fama di essere un un autore attendibile e anche come dire abbastanza imparziale e racconta dei fatti a cui lui stesso ha partecipato in più avendo il compito di Somato Fulax quindi di aiutante guardia del corpo in qualche maniera di di Alessandro per la sua opera attinse anche ai resoconti ufficiali che venivano stilati per per il re fa una descrizione dettagliata delle vicende politico-militari e questo si desume da quanto rimane nell'opera di Ariano l'anabasi di Alessandro che lo utilizzò appunto come come fonte fra gli storiografi di Alessandro abbiamo anche Callistane un un ufficiale a seguito di Alessandro e Nearco che fu ammiraglio della flotta macedone anche Callistane fu uno storiografo attendibile non non fece una narrazione da adulatore tanto che diciamo opponendosi al rito della proschiunesis cadde in disgrazia presso Alessandro quindi come dire è un non fu ecco un adulatore al suo seguito il anche Nearco racconta le vicende di Alessandro da testimone dei fatti invece diciamo un'altra linea di tendenza fu quella della storiografia romanzata e all'interno di questo tipo di storiografia distinguiamo due tendenze quella della retorica quindi abbiamo l'opera di Clitarco che alcuni indicano come iniziatore del genere Anassimene di Lamsaco e poi in particolare dobbiamo ricordare Egesia di Magnesia che fu considerato è considerato ritenuto anche il fondatore dell'Asianesimo all'interno di questa tendenza come dicevo in premessa è la retorica il centro di interesse non la storiografia quindi per esempio Egesia utilizza procedimenti retorici di tipo gorgiano e si occupa di si preoccupa di creare degli effetti psicagogici sul lettore fondamentalmente e la narrazione dei fatti è più che altro un pretesto va bene di storiografia romanzata si parla anche per Onesicrito di Astipalea e Carete di Mitilene che non rientrano però nel filone dei retori ma come dire si occuparono di un tipo di narrazione storica che aveva come obiettivo più raccontare fatti favolosi e destare come dire curiosità meraviglia e quindi un genere più di intrattenimento per così una lettura piacevole e fantasiosa che non di interesse strettamente storiografico e chiaramente questo la storiografia romanzata contribuì a creare quella serie di leggende attorno alla figura di Alessandro alimentate anche dalla grandezza della sua impresa compiuta in brevissimo tempo